oggi ho pensato di fare dalla betone zona bosco lungo sulla strada sopra le regine fino al lago nero non è una gran girata sarà un'ora e 40 un'ora e 45 andare un'ora e mezza a tornare però non ho tutta la giornata libera però ormai sono qui ho detto via sono alla betone due funghi figliamoli giù è un emi comuno un po 3 1 e tesserino e uno giù o mio buono perché per l'appunto ho trovato alla base di questo paggetto fungo un po particolare un po difficile da trovare si chiama saccharomyces cerevisie fungo ipogeo ha un odore particolarmente fungino spugnoso come i porcini piuttosto ricercato devo dire e la caratteristica di questo tipo di fungo qui è che si può mangiare subito anche crudo così non c'è bisogno di lavare non c'è bisogno di fare nulla sfida e si mangia quindi diciamo noi tesserino nemmi comune per uno giù si è anche buono anche bello fresco non ci sono larve giovanino e sono funghi difficili da trovare ma a meno che uno vada a panorama però sono buoni ne vale la pena ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti